Rosa Chemical ha baciato Fedez Siamo di fronte ad un vero e proprio limone duro C'è stato un litigio tra moglie e marito durante la pubblicità Una cosa importante per lui Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al Festival di Sanremo 2023 Rosa Chemical ha baciato Fedez Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale E qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto Gossip drama è ovviamente il meglio ma anche il peggio di questo Sanremo 2023 Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato al Festival di Sanremo Nuove notizie super super shock che vi devo raccontare Innanzitutto partiamo da quello che è stato il podio di questo Festival di Sanremo Ha vinto a grandissima sorpresa, beh a grandissima sorpresa sicuramente no Ma ha vinto per l'amore di tantissime persone qui in Italia Proprio lui Marco Mengoni che con la sua due vite ha veramente conquistato il cuore di tutto il pubblico di Sanremo 2023 Poi secondo posto Lazza, terzo Mr. Rain, quarto ultimo e quinto a grandissima sorpresa devo dire Tananai Fuori dal podio invece c'è stata lei, Giorgia Una forse delle più grandi escluse di questa Top 5 Ma oggi non parleremo di questo, c'è ok, bellissimo Anzi, fatemelo sottolineare e poi iniziamo veramente il video Marco Mengoni ha voluto anche dedicare il suo premio, quello del Festival Proprio a tutte, tutte le donne che non sono arrivate neanche in Top 5 Nonostante le bellissime canzoni Pensiamo a Madame, Elodie, veramente a tante interpreti Che purtroppo non sono, beh ovviamente anche a Giorgia, che non sono arrivate in Top 5 Vi si è parlato molto, no? C'è stata una polemica sul fatto che solo gli uomini nelle prime posizioni Le donne invece in questi ultimi anni, negli ultimi forse dieci anni, non hanno mai e poi mai vinto C'è chi ha detto, beh, meritano le canzoni e non il genere del cantante C'è chi invece dice che le donne siano un po' svantaggiate per quanto riguarda i voti Non lo so ragazzi Fatto sta che iniziamo subito questo video parlando delle tantissime polemiche Come ben sappiamo dall'inizio di questo festival ci sono state più polemiche che canzoni forse Perché iniziamo parlando di Blanco Poi parleremo di un dissing tra Fedez e Anna Oxa E poi ancora parleremo del bicchiere Gate Per ultimo ovviamente lascerò, secondo voi che cosa? Il limone duro tra Rosa Chemical e Fedez E ci sono delle novità per quanto riguarda un presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez Ma ne parleremo più avanti nel video Adesso iniziamo proprio da lui Blanco, la prima persona che ha fatto veramente cappottare tutto quanto nel vero senso della parola A Sanremo 2023 Ricorderete tutti quanti, come abbiamo raccontato anche in un video che vi lascio qui nella I di informazioni Se ve lo siete persi Vi ricorderete della prima serata del festival Ospite Blanco che appunto doveva promuovere il suo nuovo singolo L'Isola delle Rose C'è stato un problema con l'auricolare E insomma poi tutto il resto è storia Lui che spacca tutti i fiori Bla 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 Ci sono delle novità Perché ovviamente di fronte a queste immagini Due sono le, come posso dire, le teorie complottiste e non Di fronte a Blanco che spacca il palco Da una parte c'è chi dice Ah no vabbè ma è tutto finto, tutto organizzato Lo hanno fatto solo e soltanto per far parlare del festival Dall'altra parte invece ci sono le persone che dicono Ma no a me è sembrato tutto vero, tutto spontaneo Lui che spacca tutto perché non funziona l'auricolare Questo è quanto Di fronte a queste teorie complottiste Ovviamente abbiamo delle risposte Innanzitutto vorrei farvi vedere un video Ripreso proprio dalla platea dell'Ariston Dove fiorai, persone di Sanremo Cittadini della città dei fiori Si arrabbiano proprio con Blanco Hanno addirittura inveito parole molto forti Contro il cantante Guardiamo insieme questo video e poi lo commentiamo Guardate Guardiamo insieme questo video e poi ci sono le persone che 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 ci sono le Io credo che per quanto Blanco abbia potuto sbagliare questo genere di accanimento anche in platea Oltretutto fatto da persone comunque grandi Cioè parliamo di signori che avranno 60 anni Non lo so, comunque insomma persone adulte che se la prendono con un ragazzo di 19 anni Che può sbagliare all'inizio della sua carriera Certo non è stato un bel gesto quello di spaccare tutti i fiori Ma non è stato neanche un bel gesto secondo me Mandare a quel paese una persona urlando dalla platea Questo mio personalissimo punto di vista Poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate Ma arriviamo al dunque perché di fronte a Ah è tutto finto, è tutto organizzato C'è stata una persona in particolare E parliamo di una giornalista, un'opinionista d'inchiesta Viviana Bazzani Che ha deciso tramite TikTok di pubblicare un video nel quale ha raccontato la vera verità Proprio di quel momento di Blanco che spacca i fiori sul palco dell'Ariston E sul perché e per come questo sia successo E credetemi niente ha a che fare il complotto Guardate Qui dal Sanremo vi racconto quello che è successo della prima serata del caso Blanco Molti fanno delle supposizioni che era già tutto deciso in scaletta No ragazzi siete proprio fuori strada e vi spiego il perché Un'ora prima la sala stampa inviati giornalisti hanno la scaletta Dove su questa scaletta c'è scritto addirittura il minimo respiro che fa anche il presentatore Tanto che negli anni precedenti quando c'erano delle finte gaff o gag Noi lo sapevamo già prima Seguivamo minuto per minuto la scaletta Su Blanco era qualcosa di imprevedibile Dettato anche dalla poca professionalità in esperienza Un altro artista si sarebbe fermato e avrebbe detto Ho un problema tecnico Del resto negli ultimi cinque anni vi posso assicurare Non è mai successo nessun problema tecnico Ma ci può stare Invece lui non si è capito il perché ha iniziato Forse a ricordare il vecchio lavoro che faceva come calciatore Ha iniziato a prendere a calci tutti Vi posso dire che certi pezzi di vasi sono andati a finire Quasi insomma vicino al pubblico Non è stata una bella cosa Cosa è successo poi Scusate questo continuo a ripetere cosa è successo Perché in effetti è successo molto Dietro le quinte Il povero direttore di palco Se non gli sono partite le corde vocali ieri Era arrabbiatissimo Irresponsabile Tutto Guardate i tecnici Era un macello Nel cortile esterno dell'Ariston Quello della Porta Carraia Per farvi chiarezza è quello dove ci sono sempre le inviate della vita in diretta Che intervistano i VIP quando entrano con la macchina Ebbene è uscito un blanco quasi in lacrime Con il suo produttore Ragazzi erano tutti neri ci hanno scalzato anche malamente E sono andati via Peccato Peccato per un blanco perché la canzone che doveva presentare è molto bella Peccato perché qui ci sono fior fior di soldi Di una casa discografica E quindi sarà molto difficile la ripartenza di questo ragazzo Perché quando il pubblico fischia è brutto per un artista Però vi voglio dire qui da Sanremo che non è stato assolutamente creata questa situazione Un saluto E proprio come vi avevo anticipato qualche giorno fa Blanco avrebbe sì dovuto magari sradicare due rose Come fa nel suo videoclip dell'Isola delle Rose Ma non distruggere tutto quanto Addirittura cappottare interi bancali di fiori Mi sembra di aver letto su bc.it Che ovviamente ci sono delle curiosità Ma quanto ammontano i danni che Blanco avrebbe fatto sul palco dell'Ariston con quei fiori La risposta è molto semplice Ha parlato un fioraio Questo presunto fioraio che si è occupato dell'allestimento di tutti questi fiori Il prezzo pensate un po' erano ben 300 rose Ok? 300 rose Il prezzo singolo delle rose ammontava circa 8 o 10 euro a rosa Questo vuol dire che il danno fatto spaccando tutto quanto Si aggirerebbe attorno ai 2400-3000 euro Questo per farvi capire anche quanto valgono comunque i fiori di Sanremo Tutti quelli che vengono dati Cioè capite che ovviamente è stato anche un danno economico I fiorai si sono molto molto arrabbiati Ovviamente anche i cittadini perché hanno visto una materia prima come i fiori Essere deturpata in quel modo Quello che penso io è che sia stato purtroppo un incidente di percorso L'auricolare non va, lui si è arrabbiato, ha spaccato tutto quanto Ha 19 anni, possiamo capire l'errore e speriamo che questo non succeda più Anche perché veramente non è stato un bel esempio anche per tutte le varie generazioni future Che calcheranno il palco dell'Ariston Questo è quello che penso io onestamente Detto questo comunque andiamo avanti E l'ennesima diciamo bufera mediatica si è creata attorno a questo bicchiere d'acqua gate Vi ricorderete sicuramente di questa presunta lite che ci sarebbe stata tra Anna Oxa, Madame oppure Ariete e Madame Bene ragazzi, proprio di fronte a questi nomi che sono stati fatti si è creata una vera e propria polemica Perché tutti quanti hanno additato Anna Oxa come quella che ha insultato Madame o Madame ha insultato Anna Oxa Insomma se la sono presa a caso, totalmente a caso con queste due cantanti Perché dico a caso? Perché tutto vi ricorderete partiva da alcune stories pubblicate da Dejanira Marzano e Amedeo Venza I nostri amici gossipari avevano anche dato delle iniziali A e M Tutti quanti hanno pensato ad Anna Oxa e a Madame Senza pensare che c'erano anche altri cantanti con l'A e con la M Ma diciamo che è stato preso per buono soprattutto il nome di Anna Oxa Che vi ricorderete aveva risposto molto piccata da questa cosa Dicendo che era assolutamente una fake news questa lite Ebbene, di fronte a tutto il clamore che si è creato attorno a questo bicchiere d'acqua gate Proprio Dejanira e Amedeo hanno detto la loro Loro non hanno fatto mai dei nomi Tutto il resto è stato fatto dai social e da altre testate giornalistiche Sentiamo insieme quello che hanno detto e fate bene attenzione Perché ad un certo punto si parla di due cantanti Le due vere cantanti che si sarebbero tirate l'acqua E che avrebbero anche una rivalità da molto tempo Guardate Allora ragazzi ovviamente è arrivato il momento di fare assolutamente chiarezza Sul bicchiere gate Innanzitutto questa è una notizia che come sapete abbiamo dato io e Amedeo E abbiamo dato solamente un iniziale Senza dire né se era l'iniziale del nome e del cognome Da là sono partite una serie di notizie Hanno ricamato sopra di tutto Ma chi era il tabù che era Anna Ocso Era un'altra persona L'abbiamo data noi la notizia Noi sappiamo come sono andate realmente le cose Chi ha parlato di vaccino? Allora io vorrei capire da quale fantasia vostra Sono partite tutte queste ipotesi che avete dato per certe Dicendo che quelle erano le persone Quando invece sono persone che avevano già un pregresso In cui non andavano tanto d'accordo E c'è stato diciamo un piccolo schezio In merito a un saluto E quindi questo bicchiere d'acqua è stato lanciato così Ma chi l'ha detto che è accaduto un corso di festival E non poteva essere accaduto nelle prove Anzi Vi voglio fare un esempio Per esempio la Ocsa non ha assolutamente smentito Quello che ha detto Fedez Ha risposto a quello che ha detto Fedez Ma senza smentire Mentre invece quello che avete detto voi L'ha smentito Che non è assolutamente quello che abbiamo detto noi Allora ragazzi Penso sia giunto il momento Di chiarire questa benedetta questione Del bicchiere Gate Non tanto perché interessa a me personalmente Oddio Siccome siamo stati noi Io e Deia Nira Ad aver lanciato diciamo questa bomba sul festival Non mi va e non ci va Perché io e Deia è la persona che ci ha riferito questa cosa E ci siamo un po' confrontati Non ci va che vengano ricamate cose Per la quale poi noi dobbiamo rispondere Di questioni che non ci riguardano Intanto questa discussione è avvenuta E vi diamo anche uno scoop in questo caso Perché non era stato detto ancora Visto che tutti vogliono fare Vogliono far credere di sapere Ma non sanno un emerito BIP Questa discussione è avvenuta durante le prove Quindi è avvenuto tutto Durante le prove della terza serata E questa è una notizia nuova Perché tutti hanno parlato Facendo capire che sapevano e non sapevano niente Tra l'altro molto lontani anche dai nomi dei protagonisti Vi dico già che Anna Oxa non c'entra assolutamente niente Ha fatto bene a smentire Ma ad un certo punto ha pure esagerato Perché così faceva credere che ci fosse di mezzo lei Perché come ha fatto a smentire la notizia del bicchiere Gate Doveva smentire anche quella che ha fatto Fedez Chissà perché non la smentisce quella Detto questo non c'entrava niente a Anna Oxa Ma altre due persone La terza persona che ci ha riferito questo Che è uno stilista che è là dietro Molto amico di Deia Non aveva alcun motivo di raccontarci delle cazzate Quindi l'ha fatto proprio perché sapeva Che noi dovevamo lanciare delle news rispetto al festival Abbiamo raccontato quello che è accaduto Diciamo in parte Facendo i nomi o cognomi A e M E hanno iniziato tutti a parlare Quindi la notizia è stata ripresa da Tresci Italiano Che ha fatto Ovviamente è stato diciamo onesto Nel senso ha riportato quello che noi abbiamo detto Poi si è scatenato il putiferio Tutti ad insinuare A fare i nomi Noi i nomi non li abbiamo mai fatti Tra l'altro nomi sbagliatissimi Quindi Siccome Non è neanche bello che la notizia faccia il giro del mondo E i due stronzi Vengano ignorati Quando siamo stati noi A dire quello che è successo Mi dispiace deludervi Ma non vi diremo mai Neanche chi sono i protagonisti Perché E non mi riferisco ai follower Questo lo sottolineo Mi riferisco a ste pagine Non ve lo meritate Non dovete saperlo Perché non si fa Non ci si comporta così Anche le trasmissioni I programmi di Ma che professionalità avete A parlare di una cosa Quando sapete benissimo Da dove è partita E fate finta di essere voi fighi Di aver scoperto che è successo De che Quindi La notizia è vera Le protagoniste di questa L'ite Alla fine Come tante altre Nel senso È rientrata subito La questione Ma le protagoniste Stanno lì Belle e tranquille Perché tanto I loro nomi Non sono stati fatti In parte E tutto è bene Quel che finisce bene Però ci tenevamo A precisare questo Che Siete Tutti Completamente Fuori strada Ed ovviamente Dopo questo intervento Da parte di Dejanira E da Medeo Venza Onestamente Quello che penso io È che Forse Questa lite Ci potrebbe essere Stata Tra Madame Ed Ariete Io ho sempre Captato Questa sorta Di rivalità Tra le due cantanti E potrebbero essere loro Le papabili Diciamo Cantanti Che si sarebbero lanciate Il bicchiere d'acqua Questo è quello che penso io Però insomma Non abbiamo certezza Adesso però Andiamo avanti E torniamo a parlare Di Anna Oxa Una delle cantanti Più chiacchierate Di questo festival Sin dall'inizio Sin dalla sua partecipazione Un po' anche perché Secondo me La stampa Ce l'ha un po' Sul naso Ce l'ha un po' Con lei Onestamente Secondo me È anche un po' Ingiusto Perché può piacere Può non piacere Ma è stata sicuramente Ed è Una cantante Con la C maiuscola Un artista Questo è quello Che penso io Poi ognuno è libero Di pensare Ciò che vuole Però credo che Spesso e volentieri La stampa Sia un po' Ingiusta Nei confronti Di cantanti Che hanno fatto Anche la storia Della musica italiana Detto questo Comunque andiamo avanti Perché parliamo Di Anna Oxa E la associamo Al nome di Fedez La risposta È molto semplice Tutto sarebbe partito Da alcune prove Fatte prima Della serata Delle cover Dei duetti Stando Adesso lo vedremo Alle parole di Fedez Anna Oxa Sarebbe arrivata All'Aristone Avrebbe saltato Tutta la fila Per fare le prove Ascoltiamo insieme Quella che è stata La versione Dei fatti Di Fedez Raccontata in diretta Instagram Con Marco Di Trash Italiano Guardate C'era una scaletta Di artisti Che dovevano Fare le prove Lei è arrivata E ha saltato La scaletta Ok Noi eravamo lì Ad aspettare Da due ore C'erano altri artisti Prima Che stavano aspettando Lei è arrivata E ha saltato la fila È stata veramente Maleducata Sì E ero Molto tentato Dal dirglielo Poi L'ho vista E ho lasciato perdere Però È un comportamento Che domani Lo saprà Però Posso dirti Non me ne frega Un cazzo Insomma Sono volate parole Forti No Maleducata Cioè Insomma Abbiamo sentito Di tutto Un Fedez Anche abbastanza Arrabbiato No Perché forse Non si aspettava Un comportamento Del genere Da una grande cantante Come Anna Oxa Ma Ma C'è un ma Grande quanto Una casa Come sempre E perché Dico così Perché ovviamente Di fronte a tutto questo Mille mila Pagine Testate giornalistiche E quant'altro Hanno riportato La frase di Fedez Maleducata Anna Oxa Maleducata Bene Di fronte a queste accuse Oxarte Quindi lo staff Di Anna Oxa Non è rimasto in silenzio Ma anzi Ha deciso Di rispondere Per filo e per segno Alle parole Di Fedez Su Facebook Infatti leggiamo questo Oxarte informa A tutela Dei diritti Della persona Fedez Non entriamo in merito Alla strumentalizzazione Delle notizie La stampa O lui Lasciano il tempo Che trovano Avrebbe potuto Comprendere le cose Approfondendo E chiarendo Non sappiamo Se parte da lui La storia O da chi potrebbe Servirsene Come divulgatore Se si parla Delle prove La signora Oxa Per scaletta Doveva provare Alle 17 Siamo arrivati Alle 15 e 50 Come sempre In anticipo Ci è stato detto Che c'era un ritardo E che comunque Entro le 18 e 30 Le prove Sarebbero dovute finire Per tutti i motivi logistici Ci è stato riferito Che avevamo 8 persone Davanti a noi Per le prove Dopo 2 ore Che aspettavamo Mancavano ancora 5 persone Così abbiamo chiesto Come fosse possibile Che solo 3 Avessero fatto le prove Nell'arco di quel tempo Ci hanno consigliato Di spostarci Nella Red Room Perché probabilmente Passavamo avanti Agli artisti Che si trovavano lì Considerato Che la signora Oxa Doveva ritornare In hotel per cenare Prendere l'antibiotico Per la febbre Che ha avuto Prepararsi E ripartire per Sanremo E' stato chiesto Visto che comunque Aspettavamo da 2 ore Se poteva provare E' stato detto Di sì Ed ha provato A Fedez Non l'ha nemmeno visto Perché Fedez Da persona per bene Non ha chiesto Alla signora Oxa E magari Avrebbe evitato Questa esposizione Che non obilita nessuno Poi Se è una notizia Come quella Con madame Per fare lavorare Gli opinionisti Non entreremo In merito A tante cose Per il momento Se non per spiegare Solo i fatti A difesa Dei diritti E della dignità Della persona Magari Fedez Non dovrebbe Prendersela Con la signora Oxa Perché non ha Rapporti con lei Ma con chi Eventualmente Non avesse avuto Rispetto In base ai suoi Criteri di valutazione Nei suoi confronti Non è che la signora Oxa Entra direttamente In scena Non capiamo Il suo problema Non c'era nessuno Che poteva approfondire Per non farlo Sentire ignorato Tanto da Non sappiamo Se è vero Permettersi di aggredire L'onore E la reputazione Di una persona Firmato Millie Questo è Sostanzialmente Quello che ha Detto Oxart Lo staff Di Anna Oxa Questo è quello Che è successo Forse è stato Tutto frutto Di un misunderstanding Giustamente Non sapendo Che una persona Ha chiesto Che gli è stato detto Di sì Si pensa Che quella persona Non abbia superato Tutti E insomma Questo è quello Che è successo Che vedevo di Questo Questo è quanto Ma andiamo avanti Perché ovviamente I drammi riguardanti Fedez Non finiscono qui Eh? Cos'è? Cosa? Il momento sicuramente Più alto Della finalissima Di Sanremo È stata L'esibizione Di Rosa Chemical Con la sua Made in Italy Una vera e propria Ballata Che Diciamo Ce lo ha lasciato Il segno Nella storia Del festival Di Sanremo Perché Vi chiederete voi Beh se non avete visto L'esibizione Vi consiglio di guardarla Ma adesso ve la racconto io Con tanto di immagini Perché Ad un certo punto Rosa Chemical Mentre canta Prende dal palco Fedez Prima di prenderlo Però e di portarlo Sul palco Ha deciso Di twercargli Sopra Con di fianco Sua suocera Con dietro Le sue cognate E con di fianco Sempre Suo suocero Quindi Fedez Ha cerchiato Dalla famiglia Ferragni Che si vede Rosa Chemical Twercargli Sopra Insomma Le parti intime Ma non è tutto Perché ad un certo punto Che cosa succede? Succede che Fedez Viene preso Viene messo Sul palco E Non si sa Cosa stia Succedendo A fine esibizione Rosa Chemical Gli stampa Un bacio Con la lingua Siamo di fronte Ad un vero e proprio Limone duro Che nessuno E dico Nessuno Si sarebbe Mai aspettato Oh mio dio Sono super emozionated E neanche a dirlo Ovviamente queste immagini Questi video Sono stati subito Resi virali Sui social Tutti hanno parlato Di questo bacio Forse si parla più Di questo bacio Rispetto a chi ha vinto Il festival Questa è La forza Dei baci con Fedez A quanto pare Perché Che cosa succede? Succede che ovviamente A rimanere senza parole Dopo questa esibizione È stata anche Chiara Ferragni Che era visibilmente Scioccata Da quello che è successo Perché è stato davvero inaspettato E diciamo che Da quel momento in poi Qualcosa è cambiato In questa serata Del festival Ma qualcosa è cambiato Soprattutto in Fedez Perché Succede che ad un certo punto Fedez Anche un po' imbarazzato È diventato Un vero e proprio Meme vivente Nel senso che Le sue espressioni Le sue facce Terrorizzate Al tempo stesso Imbarazzate Sorridenti Non lo so Sono diventate Dei veri e propri Meme Ma La cosa Più importante In tutta questa vicenda È che ad un certo punto Viene pubblicato Un video Un video Che ritrae Fedez Chiara Ferragni Che parlano Sul palco dell'Ariston Poco dopo Questo limone duro Con Rosa Chemical Il video è stato pubblicato Non si sente molto In realtà Da questo audio Ma li vediamo Quasi Litigare Diciamo Discutere Animatamente E c'è Chi ha fatto Delle ipotesi Sul contenuto Di questo dialogo Di questo Confronto Ad esempio Su Gossipando Sul trash C'è chi dice Questo Chiara avrebbe detto Ma ti sembra modo? E Federico avrebbe risposto Ma io non ho fatto niente Amore Chiara Ne parliamo poi a casa Federico Scusami amore Io che cosa centro? Questo sarebbe In teoria Il discorso Che avrebbero fatto Fedez e Chiara Ferragni Ma effettivamente Da quel momento Devo ammettere Che qualcosa È cambiato Cioè Fedez Credetemi A un certo punto Parlava anche al telefono Con qualcuno Ma con chi? Cioè cosa succede? Boh Forse dei messaggi vocali Di Chiara Ferragni Perché non potevano parlarsi Di persona? Può essere Non ne ho idea Fatto sta Che Fedez Sembrava Effettivamente Un po' Un po' In imbarazzo Ecco Devo ammettere questo Sicuramente Il bacio di Rosa Chemical Ok Lo abbiamo detto Super iconico Al tempo stesso però Forse era necessario Cioè c'è chi ha detto Ho trovato fuori luogo Il bacio di Rosa Chemical A Fedez Perché lui È un uomo sposato Con dei figli E il bacio Magari normale Ci poteva stare La lingua Anche no Sono punti di vista Ragazzi Nel senso Boh Cioè Bisogna anche capire Perché sia stato fatto Questo bacio Ma Ma C'è un ma Come sempre Grande quanto una casa Perché Mi pare di aver letto Su bc.it Che Tutta questa storia Del bacio Del limone duro Sul palco dell'Ariston Tra Fedez E Rosa Chemical Sarebbe già stato annunciato Tempo prima Dell'esibizione di Rosa Proprio a muschio selvaggio C'era ospite Rosa Chemical E si sarebbe parlato Di quanto fare E di cosa fare Sul palco dell'Ariston Quindi Siamo di fronte Perché Fedez Credo che abbia detto Ah sì dai Ci baciamo Anche con la lingua Una roba del genere E Che cosa succede Succede che Rosa Chemical Fa beh Non diciamo Tutto quello che faremo Perché altrimenti Insomma no L'esibizione Non sarà una sorpresa E E quindi Anche qua ragazzi Siamo di fronte Ad una cosa Che era tutta programmata Tutta preparata Oppure Che è stata così Una Una cosa fatta al momento Boh Ragazzi Non lo so Una cosa la so Di per certo Che Chiara Ferragni A quanto pare Non sapeva Nulla Nulla E non era conoscenza Di nulla Di ciò che è successo Sul palco dell'Ariston Quindi Io spero tanto Perché poi Tanti hanno ironizzato Su Chiara e Fedez Che discutevano Dicendo Ah Siamo di fronte Al falò di confronto Tra Fedez e Chiara Ferragni Dopo Il tradimento Il bacio dato A Rosa Chemical Spero che insomma Si siano chiariti E che di certo Questo bacio Dato totalmente a caso Non comprometta Nulla del loro Grandissimo amore Questo è quello che penso io Ma arrivati a questo punto Fatemi sapere voi Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Perché veramente Io ho scioccato Veramente Perché non mi aspettavo Tutto questo E diciamoci Che è stata sicuramente Una finalissima Di Sanremo Che Dimenticheremo No Che non dimenticheremo Facilmente Detto questo Comunque Arrivati a questo punto Il video Può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto E se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi Noi ci abbiamo provato Ciao